comunque io stavo pensando di aprire un canale youtube, cosa ne pensi? io e te, insieme basta che non ti seguo nessuno Rope, lo chiamiamo Rope, ti mangi? Rope Channel Rope Channel è un canale di Skype Rope Channel è un canale di youtube, cosa ne pensi? Dove narriamo le nostre vicende quotidiane sai che pari a me secondo me si vede, no, si vede perché ci prendono in giro? i tuoi amici scemi ci prendono in giro allora, possiamo aprire questo canale solo se scegli, io lo faccio nessuno ti segue, nessuno ti contatta e non devi mettere i tuoi social, sono i miei e neanche il numero, perché se no ci paccano nessun gruppo Whatsapp, perché non esiste che hanno il suo numero a parte che devi cambiare scheda in tutto ciò perché in passato già avevi un altro canale sicuramente avevi questi gruppi stupendi comunque solo se... iscrivetevi al canale degli iNips oh f***o comunque se volete vedere tutti i miei video iNips ero molto bravo, avevo però tanti iscritti tenendo conto del fatto che adesso partiamo da zero iscritti dove lo apri? apri, vai pubblico questo video no, io apri tizio immediatamente pubblico questo video ebbè io parola no, no, io ho vergogno di fare queste cose guarda che la parola non si diceva così mano 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 no, ma io ho vergogno, io non parlo è stretta? guardate qua, è stretta? è più a doppia, promesso no, 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 io ho stretto però c'è non è vero io non parlo, ho parlato un po' però è vergogno allora, sono una ragazza molto timida siccome è stato il primo video del canale come è stato il primo video del canale? diciamo che al raggiungimento di 10 mi piace pubbliciamo un'altra video mi sei? mi sei? mi sei? ok sei d'accordo? a 10 mi piace nuovo video sul canale non lo vediamo manco un commenta lei si ma si ma stavo dicendo però il canale ti amo a 10 mi piace prossimo video ciao 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 ciao